Buonasera amici di segnalazioni letterarie. Eccoci a un nuovo appuntamento con l'avvocato Giovanni D'Amassa, grande esperto di diritto legale tra i pionieri del diritto legale anche sul web. Diritto d'autore, diritto d'autore. Esattamente, ecco, questa volta, ma mi pare pure l'ultima puntata, ho messo il sito www.dirittodautore.it, è questo l'indirizzo esatto, vero Giovanni? Grazie. Dove trovate un sacco di materiale appunto su di lui e materiale di argomento legislativo riguardante il copyright e affini. È notizia recente del, probabile, noi non abbiamo ancora certezze, ma poi soprattutto non faremo nome in diretta, comunque delle probabili cattive acque, diciamola così, in cui si agita una casa editrice. Ecco, ne abbiamo parlato sul nostro gruppo e oggi, prendendo spunto da questo fatto di cronaca, vogliamo però affrontare l'argomento in termini un po' più generali che abbiamo già annunciato nel banner. In questi termini generali, credo che potranno interessare a molte spettatrici, a molti spettatori di segnalazioni letterarie, se non per esperienza diretta, proprio per informazione generale, e dunque il topic di questa sera sarà che cosa succede se una casa editrice fallisce, perché ci sono problematiche, soprattutto legate al diritto d'autore e anche alle royalties. Però nel caso di autrici, autori e emergenti, forse i problemi riguardanti i diritti d'autore sono ancora più stringenti. Allora Giovanni, questa sera... Allora, bisogna dire che il legislatore, sin dal 1941, quindi nel testo originario della legge, che ricordo essere la 633 del 22 aprile 1941, proprio regolando il contratto di edizione, inserisce un articolo che è il 135, che dice, al primo comma, il fallimento dell'editore non determina la risoluzione del contratto di edizione. Per cui se l'azienda fallisce, il contratto non si risolve automaticamente. Questo al di là di quelle che possono essere le previsioni contrattuali che qualche volta si inseriscono, ovvero il contratto si risolve di diritto nel caso di fallimento, o apertura di una procedura di insolvenza, di una procedura di composizione della crisi, eccetera, eccetera. Bisogna anche pensare che però quando il codice, la nostra legge sul diritto d'autore è stata emanata, è stata emanata anche la legge fallimentare. Legge fallimentare che oggi però è accompagnata da un'altra legge che è il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. Ed è interessante vedere come il legislatore, sia nella legge fallimentare originaria, quindi in particolare l'articolo 83, che si chiama contratto ed edizione, e sia anche nel nuovo codice della crisi di imprese e dell'insolvenza, prevede la medesima norma che richiama proprio questo articolo 135, ovvero l'articolo 83 della legge fallimentare diceva che gli effetti del fallimento dell'editore sul contratto ed edizione sono regolati dalla legge speciale, ovvero la legge sul diritto d'autore. L'articolo 188 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza dice esattamente lo stesso, non si chiama più fallimento, ma si chiama invece liquidazione giudiziale, e quindi la norma dice che gli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'editore sul contratto ed edizione sono regolati dalla legge speciale. Per cui noi dobbiamo fare riferimento a questo articolo 185 della legge sul diritto d'autore di cui vi ho letto solamente il primo comma, ma c'è un secondo comma, per cui partiamo dal fatto che il fallimento o la liquidazione giudiziale, come si chiama oggi, non determinano la risoluzione del contratto. Dopodiché il secondo comma dice, ve lo lecco, il contratto di edizione è tuttavia risolto se il curatore, entro un anno dalla dichiarazione del fallimento, in questo caso quindi anche della liquidazione giudiziale, non continua l'esercizio dell'azienda editoriale o non la cede ad altro editore nelle condizioni indicate nell'articolo 132. Quindi vediamo adesso le singole situazioni. E attenzione, stiamo parlando solamente del contratto, non stiamo parlando magari, non stiamo parlando delle royalties eventualmente dovute e non pagate dall'editore fallito o in liquidazione giudiziale. In realtà il termine fallimento oggi non è più presente nella legge, anzi proprio il codice della crisi di insolvenza dice che il termine fallimento deve essere sostituito da liquidazione giudiziale, proprio probabilmente per l'accezione negativa che ha il termine fallimento. È una questione semantica, credo. Esatto, esatto. Esatto, perché poi da poco più o meno la procedura mi sembra la stessa, a me non è mai una mia... Il codice della crisi di insolvenza è del 2022, è entrato in vigore. Non è materia di cui mi occupo, per cui non ho avuto mai occasione di affrontare gli stati di insolvenza secondo il nuovo codice, mentre nel passato mi è capitato invece di affrontare fallimenti di imprese dove i miei clienti, ovviamente di imprese culturali che potevano essere case discografiche o autori, eccetera, eccetera, avevano dei crediti nei confronti di queste imprese fallite. Per cui, tanto apro la parentesi ma chiudo subito, nel momento in cui si vantano dei crediti, in questo caso per esempio di royalties non pagate, bisogna aprire una procedura che ai tempi si chiamava ammissione al passivo, che però in questi casi di piccoli crediti non vale neanche la pena fare, perché poi quando queste società falliscono di solito sono poco capienti e soprattutto per i crediti sono classificati secondo una graduatoria che vede in alto e quindi i primi soddisfatti dei crediti privilegiati, royalties da diritto d'autore purtroppo non sono dei crediti privilegiati. Quindi prima si paga l'Inps, si pagano gli stipendi, eccetera, su quello che rimane, ovviamente quello che si riesce a raccogliere. Quindi chiudo la parentesi, andiamo a vedere invece la parte che più interessa, che è quella di recuperare i diritti e quindi risolvere il contratto di edizione. Diversi spettatori infatti quando hanno saputo questa notizia si sono preoccupati di questa cosa qui. Allora, partiamo dalla lettera a legge e poi vediamo dal punto di vista pratico cosa si può fare. Allora, la lettera a legge che ho letto prima, quindi il secondo comune di questo articolo 185 dice che il contratto è risolto se entro un anno il curatore non fa delle cose, ovvero continua l'esercizio dell'azienda e quindi l'azienda continua pur in stato di fallimento continua per esempio nella distribuzione, alla vendita degli esemplari dell'opera e così via. e quindi a raccogliere quelli che sono i proventi e in teoria dovrebbero rendicontare. Togliamo anche in teoria, in teoria l'ho aggiunto io, ma in realtà se continua l'esercizio dell'azienda allora rimangono in vigore tutte le obbligazioni prese nei confronti dell'autore e quindi chiaramente una di quelle importanti è rendicontare e pagare i compensi. Dopodiché il secondo caso è non l'accede ad altro editore, però nelle condizioni di cui l'articolo 132 della legge che dice che salvo patto contrario il contratto non può essere ceduto però in tutti i contratti ed edizioni e per le stampe troviamo la clausolina che dice che l'autore dà un preventivo assenso per la cessione. Qui questa parte la saltiamo ma la cessione non può avvenire nei confronti di un editore che sia pregiudizievole alla riputazione e alla diffusione dell'opera per cui effettivamente il legislatore limita un po' questo potere di cessione perché se il via effettivamente pregiudizza la riputazione dell'autore o alla diffusione dell'opera allora questa cessione può essere realizzata portata a termine e quindi anche nel momento in cui il legislatore ipotezza che il curatore cede magari quel ramo con gli asset che sono costituiti dai contratti di edizione un altro editore deve ricordarsi che non può fare nei confronti editori che possono potenzialmente ledere la reputazione eccetera però devo dire che nella mia piccola esperienza di questa casistica particolare del fallimento dell'impresa culturale per esempio una casa editrice non mi è mai capitato è capitato di affrontare altre tipologie di fallimento come dicevo dove nell'asset del fallimento quindi nei beni aziendali ci sono anche i contratti di ci sono i diritti o la proprietà di diritti di utilizzazione economica allora cosa si può fare? si possono fare un po' di cose cioè prima aspetto un anno se nell'anno non succede nulla il contratto a questo punto si ritiene risolto scrivo al curatore e grazie a rivederci i diritti sono cioè scrivo al curatore per dire il contratto è risolto perché non hai esercitato questi diritti neppure le hai ceduti eccetera e rientro in possesso la seconda cosa che posso fare è prendere contatto col curatore e vedere se c'è la possibilità di recuperare questi diritti e quindi risolvere consensualmente il contratto ha una serie di condizioni che posso ipotizzare per esempio la casa editrice non mi ha pagato le royalties e a questo punto potrei ipoteticamente sapendo che nella bilancia della negoziazione non è che abbia così un peso rilevante comunque dicendo vabbè senti il rinuncio dei miei crediti nei confronti della società in liquidazione in cambio tu mi risolvi i contratti e rientro in possesso dei miei diritti e li vado ad esercitare con un altro editore in una pubblicazione eccetera eccetera questa è un'altra strada mi è capitato per esempio il cliente nel passato che ha negoziato col curatore la cessione di diritti in questo caso li ha pagati quindi ha fatto un contratto con il fallimento dicendo acquisto dal fallimento questi diritti e li ha acquistati il fallimento ben contento di incassare delle somme che ovviamente servono per poi per andare come dire a pagare i debiti o una quota dei debiti che la società che hanno causato il fallimento e quindi magari a questo punto non ho bisogno di attendere l'anno il curatore potrebbe poi vendere invece pensare di vendere questi contratti quindi fare delle cessioni se un curatore che poi non può come dire minimamente a conoscenza un po' delle dinamiche di una casa editrice quindi la gestione di diritti eccetera eccetera magari può mettere all'asta o raccogliere proposte da parte di altre case editrici che possono magari essere interessate a comprare in blocco questi contratti e quindi esercitare loro i diritti e quindi assumere quelle obbligazioni presenti nel contratto nei confronti dei autori quindi metterli in circolazione stampare le opere metterli in distribuzione e poi rendicontare e pagare le royalties adesso non mi viene in mente altro di quello che si può fare in base a quello che stabilisce la norma vabbè comunque Giovanni mi sembra che tu abbia dato anche delle indicazioni operative piuttosto chiarificatrici perché purtroppo sono situazioni deplorevoli però quando capitano insomma ecco sono anche un po' come dire circostanze che hanno un contraccolpo di emotività tanto più assolutamente assolutamente la parte emotiva poi forse quella no no certo perché poi come dire sono notizie che più delle volte giungono sorprendenti almeno nell'ambito in un ambito come quello dell'editoria emergente ok e do suggerimenti pratici perché poi io alla fine è vero che parto dalla norma ma poi dopo io sono avvocato non studioso no e per cui devo vedere sempre il risvolto pratico utile per chi ecco diamo qualche consiglio ai nostri amici esatto allora innanzitutto anzi oltre a quello che ho dato quindi prendere contatto con il curatore come faccio a sapere che il curatore allora le informazioni su liquidazioni giudiziali eccetera sono pubbliche quindi ci sono dei portali che si trovano facendo delle facilissime ricerche con google che danno tutte le informazioni sul fallimento e permettono intanto di scaricare la dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione giudiziale o se c'è un'altra tipologia di componimento o di soluzione che offre la legislazione e quindi il codice della crisi dell'impresa eccetera eccetera per cui troverò nel portale chiaramente il numero di ruolo della procedura che è generalmente intitolata col nome dell'azienda che sta subendo questa procedura e troverò a questo punto anche i dati del curatore con il numero di telefono poi a ogni procedura viene assegnata una PEC per cui troverò questa PEC a cui posso scrivere una PEC sicuramente posso quantomeno provare a chiamare cercare di fissare un appuntamento telefonico col curatore che probabilmente siccome non riesce a reggere tutte le telefonate chiederà di mandare una PEC e quindi inviare una PEC e vedere un po' come dire di prendere contatto e eventualmente fare una negoziazione per recuperare i diritti senza aspettare l'anno previsto dalla legge ok quindi questo è un consiglio che possiamo dare ai nostri amici ringraziamo l'avvocato Giovanni D'Amassa ricordiamo il suo sito www.dirittodautore.it e questa diretta appunto sulle circostanze purtroppo sempre le plurevoli di un fallimento editoriale la condivideremo a maggior ragione anche in un nostro post dove recentemente si è parlato di questa cosa Giovanni io ti ringrazio ti do appuntamento a martedì prossimo grazie a te ti guardano soprattutto indifferita comunque diciamo che la nostra diretta normalmente va in onda nel palissesto di segnalazioni letterarie il martedì alle ore 18 e amici continuate a seguirci perché noi abbiamo tante cose da proporvi ciao spettatori ciao Giovanni a prestissimo arrivederci